Il mondiale rally a prode in Italia si corre il rally di Sanremo. Nel 1981 aveva trionfato Michel Mouton. La zingara di Grasse spera di ripetersi, ma l'impresa non è facile. I suoi compagni di squadra, Micola e Blomquist, sono in gran forma e sono proprio loro da giudicarsi il rally. Blomquist primo, Micola secondo. La sfida tra Roel e Michel Mouton si risolve a favore del pilota tedesco, che si classifica al terzo posto davanti alla campionessa francese. Per Varte il Roel si comincia a parlare di un ritorno al gruppo Fiat per un mondiale 83 con la Lanciarelli. Mentre l'Audi guadagna punti per il mondiale Marche e ritorna in corsa quando sembrava ormai tutto perso. A Michel Mouton non resta che la speranza di aggiudicarsi il bandama in Costa d'Avorio, penultima prova del mondiale. Ma il destino sarà ingrato per la zingara di Gras e la colpirà anche negli affetti familiari. A Michel Mouton non resta che la scuola di Gras e 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 la scuola di Gras. Gras e la scuola di Gras e la scuola di Gras. Gras e la scuola di Gras e la scuola di Gras. Gras e la scuola di 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 Gras e la sc Grazie a tutti. Grazie a tutti.